Partiamo da te, da voi, di che vi occupate velocemente e poi planiamo sul mondo del cinema. Siamo una società di servizi di costruzione, ci occupiamo generalmente della realizzazione dei cantieri, retail, office fit-out e hospitality. Quanto il cinema entra nel tuo, nel vostro lavoro, come mondo di riferimento? Parecchie volte, soprattutto quando ci troviamo a dover fare e preparare dei mood board per i nostri clienti, ci sono molte ispirazioni, ovviamente italiani, i clienti esteri adorano l'Italia, adorano l'Italia gli anni Sessanz del Sud e quindi ci sono un sacco di riferimenti cinematografici. Qui a Venezia poi è un mondo di riferimento unico, sembra di entrare nella storia, ieri sera passeggiando si vedevano passare 500 vecchie, Alfa Romeo, per fare dei nomi di auto italiane d'epoca, in questo caso è un po' come se si fosse fermato il tempo, ma poi vediamo anche il futuro nei film, in alcuni film. Quindi c'è questo scarto temporale che è molto, come dire, ingaggiante. Esatto, è un'esperienza incredibile. Noi sappiamo fare le cose bene, ci mettiamo la passione e questo si vede in tutto quello che facciamo. Senti, il mondo dell'outdoor è un riferimento nuovo, nel senso, c'è sempre stato, però negli ultimi 5 anni si è lavorato molto e le persone hanno imparato a riconquistare un po' gli spazi esterni, questo è importante. Assolutamente sì, molti clienti, sia retail ma soprattutto office, continuano a chiederci di progettare, ovviamente realizzare spazi esterni per una flessibilità maggiore giornaliera del loro lavoro. Quasi come fosse un prolungamento della vetrina, un avamposto. Esattamente sì, tantissimi deore esterni, tantissimi rooftop che iniziano a essere, iniziano, continuano ad essere sempre di più richiesti nel cliente e ovviamente sono spazi che danno valore allo spazio interno del loro edificio. Senti, io ti chiedo come sempre una parola chiave alla fine di queste brevi chiacchierate, però non può essere divertimento, quindi te ne levo una. Mi sembra di capire che nel progetto che stai raccontando, nel vostro modo di progettare, ci sia molto divertimento anche. Assolutamente sì. Ma qual è la tua parola? La parola chiave è difficile, io ti direi internazionalità oggi, proprio perché stiamo lavorando con un importante cliente inglese che apre per la prima volta il suo store a Milano, quindi fuori dalla Brexit, fuori da UK, e oggi, dopo questa esperienza meravigliosa a Venezia, l'internazionalità e l'italianità sono due elementi che si sono baciati in questo bellissimo contesto e spettacolo. Evviva, grazie. Grazie a voi.